Pessima giornata, freddo, pioggia, maratona, maratona 2015, maratona di Roma, vedete qui piazza Venezia, la partenza della maratona, adesso sono le ore 10 circa e ormai si sta in via di conclusione, giornata proprio fredda, pioggia, peccato, ricordo maratone dal caldo estivo e quindi qui da piazza Venezia per il momento insomma è tutto, seguiranno probabilmente altri video e oggi è il 22 marzo 2015, quindi una maratona sfortunata quella di quest'anno. Grazie a tutti. Grazie.